Se non sei una scassa minchia, non smuovi niente, ci vuole sempre nella società qualcuno che va avanti e si prende tutta la merda della situazione, però poi è grazie a quello che va avanti che è la società migliore e i benefici ne prendono tutti, anche chi è rimasto dietro e non ti fa per niente per quello andare avanti. Falcone è stato l'esempio degli esempi, si è presa tutto addosso, però poi se viviamo in una società migliore è grazie a Falcone che è gente come lì che è andata avanti prendendosi tutto.